Mettere in pratica Che vuol dire mettere in pratica? Che vuol dire? Si autentico Autentico Se sei oro, oro vero Non finto Traduciamolo Sei un marito? Vivi da marito Sei una moglie? Vivi da moglie Se perdi Rilancia Ricomincia Impara il mestiere della risurrezione Di domenica in domenica E ti rituffi nella domenica Dentro il sangue di Cristo E ti rituffi dentro la sua santità Il suo amore Perché il motivo Per il quale Dio ti ha scelto Come sposo e sposa E come cristiano nel battesimo È La missione Non avete chiesto salute Non avete chiesto soldi Non avete chiesto sicurezza Come Salomone Avete chiesto un cuore Saggio E intelligente E Dio sarà fedele a voi Anzi Dio è più abbondante ancora Vi darà tutto quello che non avete chiesto Non avete chiesto Saggio 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 Saggio